a osio sotto in provincia di bergamo nei pressi del municipio si trova un'opera d'arte del tutto inaspettata un grande volto reclinato in bronzo realizzato dallo scultore polacco igor mitorai e collocato nella juola della piazza nel 2007 alla presenza dell'artista stesso e del critico vittorio sgarbi il titolo dell'opera è osiride addormentato i richiami alla scultura classica greca e romana sono evidenti ma il messaggio di mitorai è tutt'altro che meramente celebrativo i suoi eroi sono colti nella loro vulnerabilità spesso feriti velati mutilati inermi eroi del tutto umani